Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 13 marzo 2012, il Presidente del Consiglio dei Ministri decreta, a titolo di anticipazione della programmazione dei flussi in ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2012, sono ammessi in Italia in via di programmazione transitoria per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entrano a quota di 35.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. La quota di cui ho come primo riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia e Zegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.